amici di tradizione rossonera bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato alla storia del mina l'argomento di cui andremo a parlare oggi è un argomento che avete scelto voi qualche giorno fa infatti sulla pagina instagram tradizione punto rossonera se non l'avete ancora seguita andate subito a mettere il segui abbiamo chiesto di cosa avreste voluto sentir parlare nel prossimo video youtube bene con il 42 per cento ha vinto la storia del milan in coppa intercontinentale ma prima di addentrarci nell'argomento di questo nuovo video vi ricordo come detto di seguirci oltre su instagram anche sul canale youtube ma anche su facebook come tradizione rossonera e su tiktok come tradizione punto rossonera e ricordatevi il subscribe qui e di attivare la campanella in modo che potete rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno sul canale il milan e la coppa intercontinentale dunque una storia dolce magari anche agrodolce perché qualche delusione l'abbiamo avuta che ripercorriamo in questo nuovo video la coppa intercontinentale nata nel 1960 fino al 2004 ha assegnato il titolo di campione mondiale per le squadre di club si è sempre giocata dal 1960 al 1979 in gare di andate di ritorno tra la squadra vincitrice della coppa dei campioni d'europa la nostra champions league e la coppa libertadores ovvero la coppa dei campioni del sud america dal 1980 al 2004 si è giocata con sponsor toyota in sede giapponese a tokyo in gara unica allo stadio olimpico che è stato oggi rifatto per le olimpiadi che ci sono state a tokyo nel 2021 dal 2005 la coppa intercontinentale è diventata quella che conosciamo come mondiale per club l'ultima edizione la vinta in real madrid la prima nel 2005 la vinse il san paolo contro il liverpool in finale una competizione aperta a tutte le squadre campioni dei vari continenti non solo europa e sud america l'esordio del milan in coppa intercontinentale ha una data ben precisa 16 ottobre 1963 dopo aver vinto infatti la coppa dei campioni nella 1963 in maggio a wendley contro il benfica 2 a 1 con la storica doppietta di altafini il milan deve giocarsi il titolo mondiale per club contro il santos squadra brasiliana che ha vinto la libertadores e nel santos in maglia completamente bianca come il real madrid gioca un certo pele che arriva a san siro è un evento straordinario il santos tra l'altro è campione in carica nell'intercontinentale perché l'anno prima ha battuto due volte il benfica nella finale sia in brasile sia in portogallo alla vigilia si discute della marcatura del brasiliano che spetterà tra pattoni ma anche il milan al suo brasiliano si chiama amarillo e quattro anni dopo nel 67 deciderà la prima coppa italia vinta dal milan segnando il gol decisivo col padova in finale amarillo viene incalzato sul fatto che ci sia qualche inimicizia con pele ma lui smentisce è il mio grande amico e non si può mai essere nemici di un grande calciatore così e proprio amarillo e pele saranno protagonisti della gara di san siro finisce 4 2 per il milan ma non segnano solo loro una doppietta testa ma segna proprio tra pattoni e chiude i conti con il quarto gol anche bruno mora grande e indimenticato attaccante del milan che era in campo anche a wembley pochi mesi prima nella finale di coppa dei campioni l'allenatore del milan non è più nero e rocco ma è l'argentino luiz carniglia che dopo due anni alla roma con la quale aveva vinto anche la coppa delle fiere era approdato in rosso nero il direttore tecnico è gipo viani che è entusiasta della prestazione del milan a san siro i rossoneri sono convinti di avere l'intercontinentale in tasca ma il 14 novembre del 1963 bisogna giocare il ritorno nel mitico maracanà di rio de janeiro davanti a 150 mila spettatori un'agenzia viaggi di milano la viaggi certosa in viale certosa 41 organizza vari pacchetti di trasferimento da milano e da roma per rio de janeiro per esempio con un 18 dell'alitalia dal 12 al 19 novembre del 1963 il viaggio costa 600 mila lire al maracanà il milan va in vantaggio per 2 a 0 ancora con mora e con altafini ma il santos restituisce il 4 a 2 dell'andata e si va dunque allo spareggio questa volta pelè non è in campo per un infortunio e il milan prima della partita si cautela a proposito dell'arbitro dell'incontro l'argentino brozzi i rossoneri mandano infatti una lettera alla uefa e alla confederazione sudamericana dicendo che alla fine della partita avrebbero esaminato le decisioni del direttore di gara molto attentamente l'indomani sulla gazzetta dello sport gualtiero zanetti parla di intimidazione dei brasiliani nei confronti dei rossoneri e ci si chiede se il milan non lascerà il brasile e invece di giocare la partita decisiva quella che si disputa due giorni dopo lo spareggio per l'assegnazione del trofeo per esempio il gol del 2 a 2 del santos è viziato da un netto fuori gioco di almir che è immortalato anche da una fotografia che potete trovare su magliarossonera.it insomma il clima incandescente e ci si mette proprio brozzi l'arbitro a far la grossa assegnando alla mezz'ora un rigore inesistente per il santos cesare maldini capitano di quel milan protesta per il rigore subito ma brozzi per tutta risposta gli mostra il cartellino rosso il tiro dal dischetto viene trasformato da dalmo ed è il gol partita il gol che da la seconda coppa intercontinentale consecutiva al santos gino palumbo sul corriere della sera il giorno dopo è ancora più duro della gazzetta dello sport e scrive così il milan non è campione del mondo ma non importa non importa essere campioni del mondo di uno sport nella quale la legge della giustizia viene sovvertita e piegata dalle leggi della prepotenza e del compromesso la squadra al ritorno alla malpensa però viene accolta da migliaia di tifosi festanti luiz garniglia parlerà di corrida e non di partita mentre mario david che era al mondiale cileno nel 1962 quando accadde qualcosa di simile in cile italia 2 a 1 dice qua è stato peggio che al mondiale in cile sei anni dopo nel 1969 il milan torna a giocare la coppa intercontinentale dopo aver vinto la coppa di campione a madrid con l'ajax nel maggio di quell'anno le cose in campo andranno più o meno come in brasile ma andiamo con ordine perché il risultato sarà molto diverso perché il milan la coppa stavolta la porterà a casa gli avversari sono le studiante della plata e studiante come studenti perché nel 1905 la squadra fu proprio fondata da alcuni studenti universitari e delle superiori esclusi dall'altro club che praticava solo sport indoro ovvero il gimnasio in quegli anni le studiante sia una squadra formidabile vincerà la coppa libertadores per tre anni di fila 68 69 e 70 e anche in questo caso il milan la affronta da campione in carica dell'intercontinentale perché nel 68 le studiante si aveva battuto il manchester united di george best l'allenatore è osvaldo zubel dia e in campo tra gli altri c'è juan ramon veron vi dice niente questo nome centrocampista simbolo della squadra è il padre di sebastian veron che ricordiamo alla lazio e al par il padre viene soprannominato la strega la bruchia e mentre sebastian veron sarà la bruchita la streghetta il regista invece di quella squadra è un certo carlos bilardo che nel 1986 porterà l'argentina a vincere il secondo mondiale della sua storia il protagonista di serata è un brasiliano si chiama angelo benedicto sormani e segna una doppietta con in mezzo il gol di un argentino naturalizzato francese nestor combini gli argentini in campo già a san siro sono fallosi provocatori combini denuncia i suoi compatrioti dicendo ma che razza di compatrioti ho ha il volto tumefatto e si è rotto lo zigomo dopo aver ricevuto dei colpi proibiti dai giocatori delle studi a questo in parte fa capire già il clima che ci potrà essere a buenos aires al ritorno i giocatori all'allenatore delle studiante spero minimizzano dubendia dice ma vi siete dimenticati la bottiglietta che mi hanno tirato vicino alla panchina bilardo nega di aver steso lodetti mentre anche malbernata nega di aver fatto male a pierino prati dubendia addirittura capovolge le cose dice che il milano ha provocato e che anche il suo pubblico allo stadio è stata tutta una provocazione durante tutti i 90 minuti il 22 ottobre del 1969 il milan va a buenos aires a giocare il ritorno ma quello che aveva aggiunto dubendia alla fine della partita dicendo a buenos aires picchieremo no non c'è motivo perché ecco verrà completamente disatteso la voce che racconta la finale di ritorno di coppa intercontinentale buenos aires è di nicolò carosio mili telespettatori qui buone aires e nicolò carosio che parla e vi saluta sono le 20 e 56 locali di mercoledì corrispondenti alle 0 55 italiane di giovedì dallo stadio bombonera del bocca junior stiamo per trasmettervi via satellite la partita di ritorno della decima edizione della coppa intercontinentale fra le squadre del milan italia e studiante sargentina la partita finisce 2 a 1 per il milan segna rivera ma il risultato non conta il milan vince ma la battaglia della bombonera dove si gioca la partita di ritorno è decisamente peggiore di quella del maracanà di sei anni prima uno dei più scatenati è il portiere degli argentini poletti che verrà radiato a vita dalla federazione argentina i giocatori del milan in maglia completamente bianca vengono aggrediti e provocati giovanni lodetti ha raccontato che durante la foto della squadra prima del calcio d'inizio gli avversari li avevano presi appallonate all'ingresso in campo invece poco prima i tifosi versarono sui giocatori del milan delle tasse di caffè bollente a farne le spese in modo serio ancora una volta fu nestor con ben che venne violentemente aggredito dagli avversari e venne per giunta arrestato a fine partita per remitenza alla leva ci vollero 12 ore per liberarlo con ben dovete dimostrare che aveva effettivamente svolto il servizio militare in francia oltre al portiere poletti anche i difensori agghiere suarez e maniera furono lungamente squalificati e furono addirittura insieme a poletti arrestati la partita sarà ricordata come la battaglia di buenos aires e gianni rivera ha raccontato che nel momento in cui l'aereo del milan si stacca dalla pista di buenos aires per tornare in italia parte il gesto dell'ombrello risse spintoni pugni e gomitate ora sono alle spalle adesso andiamo a parlare facendo un salto di vent'anni più avanti di due finali decisamente dolcissime per i colori rossoneri come detto dal 1980 la coppa intercontinentale si sposta in giappone a tokyo finale secca sempre la squadra campione d'europa contro la squadra campione del sud america il milan dopo vent'anni torna finalmente a vincere la coppa dei campioni e quindi il diritto a disputare la coppa intercontinentale ad attendere i rossoneri in giappone c'è l'atletico national di medellini colombiani allenati da un dentista che si chiama francisco maturana il giocatore più rappresentativo e ricordato di quella squadra il portiere rené iguita colombiano salterà i mondiali del 94 perché verrà arrestato dopo aver fatto da mediatore in un sequestro senza avvertire la polizia ed è noto per i suoi metodi rivoluzionari per parare come il celebre colpo dello scorpione lo vediamo fare in un amichevole fra inghilterra e colombia wembley nel 1995 si gioca alle 4 e 30 ora italiana la partita viene trasmessa in diretta su italia 1 con la cronaca di bruno longhi allo stadio olimpico di tokyo ci sono 62 mila persone molti giapponesi sono in fila dalla sera prima con i sacchi a pelo per cercare di entrare a capparrarsi i posti migliori immediatamente all'apertura dei cancelli arrico sacchi è preoccupato prima di tutto perché dice la scuola del medellino è una scuola in ascesa e a noi dice manca gulli te regaliamo un vantaggio tecnico notevolissimo c'è un particolare in più che può spaventare i rossoneri nelle ultime nove edizioni della coppa intercontinentale prima di quella partita contro il medellino soltanto due squadre europee erano riuscite ad alzare il trofeo e infatti a tokyo quel 17 dicembre 1989 non è la scintillante semifinale contro il real madrid finita 5 a 0 di cui abbiamo già parlato in questo video qua e nemmeno la finale di barcellona 4 a 0 la steaua ma è una autentica partita a scacchi sacchi anni dopo ricorderà come il suo milan non riusciva a venire fuori dalla gabbia studiata da francisco maturana fin quando ai supplementari al 119 minuto succede questo visuale ha messo dei giocatori suoi quindi sono tutti schierati in barriera battevani attenzione gol ha segnato chicco evani ancora una volta è lui che risolve la partita chicco evani che aveva regalato la super coppa al milan contro il barcellona sta regalando il titolo di campione mondiale per club ai rossoneri alberigo evani che aveva saltato quella semifinale contro il real madrid e la finale per quel brutto infortunio rimediato in allenamento alla vigilia della partita con gli spagnoli per un infortunio dopo un'entrata di demetrio albertini in allenamento è l'uomo risolutore della partita come lo era stato pochi giorni prima anche in super coppa europea il milan di sacchi raggiunge così la vetta più alta del suo ciclo il milan vent'anni dopo torna a vincere la coppa intercontinentale e soltanto sette anni prima era retrocesso in serie b l'anno dopo il milan vincerà ancora a tokyo la sua terza coppa intercontinentale il milan torna in giappone infatti dopo aver vinto contro il benfica la coppa dei campioni nel 1990 in maggio a vienna ma questa volta non sarà una partita scacchi quella contro i paraguaiani dell'olimpia assunzione l'ultima partita di campionato prima di quella finale è una partita contro il lecce a san silo giocata in un terreno infame e risolta da un colpo di testa di rai card e sarà proprio frank rai card il grande protagonista di quella finale con una doppietta il terzo gol sarà di giovanni stroppa ma oltre a rai card probabilmente l'assoluto protagonista senza segnare sarà sua maestà marco van basten e ancora van basten che si è solo in tre giocatori del milan vediamo il pallonetto e palo rai card ed è 3 a 0 per il milan fa tutto marco van basten i golli fanno gli altri l'andese infatti dispensa magie assist e grandi giocate adesso andiamo negli spogliatoi di quella milan assunzione dopo la partita e vediamo cosa disse i protagonisti sono contento contento lo stesso abbiamo giocato un buon secondo tempo abbiamo dimostrato che siamo ancora quella di prima così prima tutti contenti sempre stare attenti nel mondo del calcio sempre pronta che ti fanno male se ti rilassi un attimo una partita difficile che conferma un grande milan sì abbiamo avuto fortuna andare in vantaggio proprio alla fine del primo tempo poi le cose si sono facilitato perché abbiamo trovato degli spazi franklin uragano rai card diceva van basten che aveva bisogno di una macchina nuova ed eccolo qui il miglior modo di andare a concessionare questo sì sì da parte la macchina che è molto divertente questo premio che abbiamo vinto con la squadra è stato molto più importante per due volte consecutive vincere questo questa coppa è stato è veramente molto grande e non è tutto guardate cosa vi faccio vedere adesso niente po po di meno che la gazzetta originale del 10 dicembre 1990 il milan torna da tokyo a linate via parigi con un aereo della air franza e conclude un bienio straordinario coppa dei campioni supercoppa europea e coppa intercontinentale nel 89 e stessa cosa nel 1990 cioè adesso voglio dire questo non è un triplete anzi questo è un triplete che vale molto di più di certi tripleti di altri no gli anni 90 potrebbero proseguire concludersi con altri due trionfi mondiali ma dopo quei bei giorni trascorsi nell'89 nel 90 nella terra del sollevante arrivano le note dolenti nel 1993 il milan non dovrebbe disputare la coppa intercontinentale a tokyo ma il marsiglia legittimo proprietario delle finali viene escluso dalla disputa della supercoppa europea e della coppa intercontinentale dopo lo scandalo che lo travolge nel maggio del 93 poco prima della vittoria contro il milan in coppa dei campioni a monaco di baviera due giocatori del marsiglia avevano infatti corrotto gli avversari del valencien per vincere finirà 1 a 0 per i marsigliesi la partita decisiva in casa loro per la conquista del titolo francese il milan dunque subentra per giocare la supercoppa europea contro il parma che perdiamo vincendo 1 a 0 a parma ma perdendo a san siro per 2 a 0 nella partita di ritorno e la coppa intercontinentale che il marsiglia avrebbe dovuto disputare con i brasiliani del san paolo vincitori della coppa libertadores quel san paolo è una squadra interessante allenata da tele santana mago del brasile dell'82 e schiera in campo leonardo futuro milanista e futuro anche dirigente e allenatore anche dell'inter e cerezzo ex giocatore della sampdoria con la quale nel 91 ha vinto lo scudetto oltre a loro c'è un brasiliano che si chiama marcos evangelista de moraes se il nome non vi dice niente ve lo dico subito io caffù caffù e leonardo saranno anche nella nazionale brasiliana che l'anno dopo negli stati uniti nel 94 vincerà il titolo mondiale alla vigilia della partita di tochio del 12 novembre 93 contro il san paolo c'è un mistero legato ad ejan savicevic ne ho parlato approfonditamente nel podcast c'era una volta il milan che potete ascoltare su spotify in breve pare che savicevic sia squalificato perché due anni prima la sua stella rossa aveva giocato contro il colo colo a tokyo un'altra finale della coppa intercontinentale e lui era stato espulso si pensa dunque che a tokyo nel 93 savicevic sia squalificato ma dopo una battaglia diplomatica tra tokyo e l'europa con continui telex in arrivo in partenza savicevic non risulta squalificato ma c'è un problema che fabio cappello natura del milan sta preparando la partita senza savicevic tenendo in considerazione che lui non sarà del match natura feriulano non cambia l'idea anche quando saprà che savicevic potrà giocare schiererà dall'inizio raduccioio è una partita sfortunata per il milan che va sotto due volte ma per due volte riesce a recuperare con papen e massaro ma a tre minuti dalla fine luiz antonio correa da costa noto come muller fa lo scherzetto ai rossoneri l'ex attaccante del torino che aveva militato appunto in granata alla fine degli anni ottanta sfrutta per la verità un rimpallo scaturito da un errore di sebastiano rossi che praticamente con le mani gli rinvia il pallone sul tacco il milan così perde 3 a 2 viene beffato a pochi istanti dal termine ma probabilmente è stato meglio così in fondo opinione personale quelle due finali con parma e san paolo non le dovevamo giocare il milan arriva in giappone ancora dopo una straordinaria finale di coppa dei campioni vinta 4 a 0 ad atene il 18 maggio contro il barcellona di croif l'avversario questa volta sono gli argentini del belez sarsfield che in panchina hanno una futura conoscenza italiana carlos bianchi con l'argentino alla roma arriverà anche il difensore di quel belez roberto trotta che sarà protagonista nostro malgrado di quella finale di coppa intercontinentale ma soprattutto tra le file degli argentini anche questa volta c'è un portiere che resterà molto celebre nel panorama calcistico stiamo parlando di josé luiz chilaver portiere paraguaiano che segnerà un totale di 62 reti in carriera 54 con il club 8 con la nazionale di questi 45 su calcio di ma anche due su azione il milan si presenta da chiaro favorito a tokyo in quella edizione della coppa intercontinentale con grande desiderio di rivincita dopo la sconfitta dell'anno precedente la partita si disputa alle 11 ora italiana quando a tokyo è sera e viene trasmessa in diretta da tele più due quella che per il milan poteva diventare la quarta coppa intercontinentale diventa una serata da incubo soprattutto per alessandro costacurta dato che siamo in giappone è proprio il caso di dire che il difensore rosso nero fra hara kiri in più di un'occasione prima causa il calcio di rigore che viene trasformato proprio da roberto trotta che di quel velez è il capitano per l'uno a zero poi compie un retropassaggio scellerato per sebastiano rossi che viene aggirato da omar azad che insacca con un pallonetto da posizione molto defilato omar azad classe 1971 ha vestito la maglia del velez dal 92 al 2000 ed è l'unica maglia che ha vestito nella sua breve carriera che è finita anzitempo nel 97 per un brutto infortunio ai legamenti il milan perde così una coppa intercontinentale che poteva fare sua contro una squadra sostanzialmente modesta lo riconoscerà anche dejan savicevic a fine partita che dirà abbiamo perso da una squadra di serie c desai dirà che se si stava in campo due giorni il milano sarebbe riuscito a segnare mentre maldini aggiunge che perfino i paraguayani dell'olimpia assunzione nel 90 erano più forti del velez la luna di miele fra il milan e la coppa intercontinentale finisce male anche nel 2003 per la terza volta consecutiva non si gioca più a tokyo ma a yokohama stadio che ha visto protagoniste brasile germania l'anno prima nella finale del mondiale vinta dai brasiliani e billy costacurta anche qui la combina grossa vediamo se costacurta riesce a fare gol però ovviamente c'è sempre il vantaggio da parte della squadra avversaria costacurta dopo l'uno a uno dei tempi regolamentari e supplementari fra milan e bocca junior finisce con la vittoria degli argentini ai calci di rigore sbaglia costacurta ma sbagliano anche pirlo e sedorf in porta c'è abbondanzieri ma l'allenatore di quel bocca juniors indovinate chi è peccato perché dopo la vittoria a manchester contro la juventus a maggio sarebbe stato bello alzare in dicembre anche la coppa intercontinentale da menzionare in quella finale ancora una volta yondal thomas un uomo dai gol importanti e pesanti il suo gol però non è potuto valere il trionfo mondiale il milan tornerà a yokohama nel 2007 la formula è cambiata il mondiale per club e ci ricordiamo tutti com'è finita l'urava red diamonds viene battuto in semifinale e poi nella finale ci prendiamo la rivincita con il bocca juniors sicuramente il mondiale per club oggi ha un appeal molto molto diverso e forse più scadente rispetto agli anni in cui c'era la coppa intercontinentale ci giocava a tokyo e si facevano le levatacce notturne oppure si andava in sud america a prendere le botte come detto l'ultima edizione della coppa intercontinentale è quella del 2004 successiva milan bocca juniors quando il porto vince con l'once calda chiudendo così la storia della manifestazione che cambierà appunto nome e trofeo se anche questo video dedicato alla storia del milan ti è piaciuto condividilo commentalo sarò ben contento di risponderti e ricordati di mettere subscribe attivare la campanella per non perderti i prossimi video e di seguire tradizione rossonera su instagram facebook e tic toc alla prossima